Ultima cosa è la relazione sullo stato di votazione dei programmi dell'Unione negli antichi borghi ai sensi di quanto ha visto l'articolo 19 allo Statuto dell'Unione. Sinceramente, siccome non ha bisogno di votazione e siccome era all'interno degli atti del Consiglio, se vi sono chiarimenti da chiedere procederei altrimenti lo do per fatto perché comunque qui non dobbiamo assolutamente votare. Ok, dunque concludiamo.